e si si chissà che lo faccio un pochino più piccolo proprio il motorino che ti ho preso ci metto una pala solo perché mi sembra troppo potente il motorino questo è potente sembra che vada in cavità azione lo posso mettere anche sul nostro forum? è certo è vero è vero è vero è vero